Salve a tutti ragazzi, siamo su Suspect, il gioco che per me ha segnato molte cose dove ci si può litigare, ci si... ...mente si blocca E questo come aspetta Ciao ragazzi Capi, che c'è? Live Live È presente no? Che salirezza Ma quando sono entrato sentivo tipo un caso dire Non so se lo posso dire o no Ma che è tutto a posto? Ci sei? Ci fai? Non ci sei? Non ci stai? Sì, a parlare una persona, ora assisterete al grande cosa Finalmente sei tornata a parlare Perché? Perché pianto? Che c'è? Perché stai litendo? La piccata con le cacciocchi Nooo Nooo Yuhuuu No, ora... No, ora... ah niente raga non si può portare questa cosa su youtube